violenza sessuale in centro resta in carcere il bengalese accusato di stupro derubata una sala slot malviventi rompono mascherati da rapinatori di una popolare serie tv appello di lanzi per la sicurezza più poliziotti e telecamere intelligenti la scomparsa di riccardo branchini ricerca interrotte al furlo ma continuano le segnalazioni d'avvestamento allagamenti al centro benelli e frane sull'ardizio il comune preleva 250 mila euro dal fondo di riserva benvenuti al nostro telegiornale buona serata tutto il pubblico di rossini tv apriamo questa edizione con la cronaca in particolare con il caso della violenza in pieno centro a pesaro con un trentenne bengalese accusato di stupro all'alba di lunedì nei confronti di una 49enne peruviana oggi è stato convalidato l'arresto con reclusione in carcere per gravi indizi di colpevolezza ma in tribunale l'imputato ha raccontato una versione dei fatti molto diversa che ci viene ora descritta dal suo avvocato rimane in carcere il trentenne del banglades accusato di violenza sessuale nei confronti di una 49enne peruviana all'alba di lunedì nella centralissima piazzale matteotti questa mattina nelle tribunali di pesaro il gip giacomo gasparini ha convalidato l'arresto per i gravi indizi di colpevolezza che vanno dalla flagranza di reato al pericolo di reiterazione a nostro avviso non ci sono le esigenze cautelare o quantomeno possono essere delle esigenze ridotte rispetto a quello che ha individuato il giudice quindi pensavamo ad una misura meno restrittiva e quindi non so gli arresti domiciliari ad esempio il bengalese incensurato regolare sul territorio impiegato come aiuto cuoco non si è avvalso della facoltà di non rispondere ma aiutato da un interprete ha voluto descrivere al giudice uno scenario diverso rispetto a quello delle presunto stupro lo scenario di un incontro casuale fra l'uomo e la donna con quest'ultima che avrebbe proposto un rapporto sessuale concordato su pagamento di 20 euro per poi tirarsi indietro dopo aver appurato lo stato di alterazione alcolica dell'uomo lui dice di aver pagato e successivamente la signora avrebbe cambiato idea e da lì sarebbe nata una diciamo una questione un contraddittorio parlando a lungo prima su una panchina poi in piedi in piazza dei matteotti con il soggetto indagato che avrebbe cercato quindi di riprendere i suoi soldi insomma secondo la difesa le grida della donna che hanno portato alla chiamata ai carabinieri sarebbero iniziate per la concitazione di questa presunta mancata restituzione del denaro al quale seguito il trascinamento della donna dietro al chiosco e lui probabilmente per zittirla perché spaventato aveva anche bevuto molto così ci ha riferito comunque l'ha portata in un luogo più appartato cercando appunto di riprendere i suoi soldi chiaramente insomma sbagliando la disposizione della custodia in carcere arriva dopo l'acquisizione dei video che secondo l'avvocato Mariella mostrerebbero solo le fasi concitate precedenti alla presunta violenza e mostrano che lui si siede vicino a lei che parlano confabulano a lungo per qualche minuto che poi la signora si alza che lui la segue e continuano a parlarsi si vede che gli animi cominciano un po a scaldarsi perché un certo punto lei come dire si gira quasi per andarsene lui la prende per una spalla e la trascina verso di sé e continuano a parlare finché poi la porta per mano per un braccio verso la panchina si siede la signora sulla panchina e lui ancora davanti che continua a parlargli cioè e fruga sembra che frughi qualcosa questo questo io vedo e poi in realtà il resto insomma non si vede la flagranza di reato appurata dai carabinieri trovando la coppia seminuda dietro al chiosco sarebbe arrivata laddove non è arrivato l'occhio delle telecamere mentre nei carabinieri nella videosorveglianza hanno appurato la presenza di un coltello con il quale la donna accusato di essere minacciata continuiamo con la cronaca seconda rapina in una settimana ai danni di una sala slot a pesaro ieri sera infatti c'è stato un assalto al locale las vegas collocato sotto il cinema multiplex giometti ai rompere nella sala sarebbero state due persone travisate in volto con maschere dei rapinatori della popolare serie tv netflix la casa di carta alla vista dei rapinatori che hanno simulato la presenza di una pistola tenuta in tasca il gestore del locale ha attivato subito l'allarme e si è rinchiuso nella panic room presente nella sala giochi contenente la cassaforte i rapinatori si sono dovuti accontentare di 200 euro presenti nel registratore di cassa e si sono dileguati dopo un vano tentativo di sfondare a calce la stessa panic room indaga la polizia acquisendo le immagini delle telecamere della zona e proprio di video sorveglianza ha parlato ai nostri microfoni oggi marco lanzi consigliere comunale ed ex dirigente di polizia alla luce dell'ampliamento di telecamere disposto ai varchi del centro storico a partire dal mese di novembre io credo che un problema di sicurezza ci sia un pochino in tutte le città basta vedere quello che succede basta vedere le cronache giornaliere un problema di sicurezza perché veramente siamo pochi tutte le forze di polizia sono ridotte veramente minimi termini è chiaro che un fatto come quello accaduto in pensare le matteotti non è che si poteva prevenire con una presenza massiccia delle forze di polizia perché comunque non è che possiamo presidiare ogni angolo ogni piazza del territorio evidente che comunque visto anche chi ha commesso il reato che c'è un grosso problema in italia anche per riguardo all'integrazione all'accoglimento comunque di chi chiede di richiedente asilo sappiamo benissimo che questa è una situazione che in tante città sta determinando grosse problematiche purtroppo anche qui a pesaro come abbiamo visto e quindi quando per esempio oggi ho visto che pieri aspersi presidente aspers ha detto che comunque installeranno queste telecamere iper tecnologiche per uscire a individuare le macchine che in maniera che accedono al centro storico per poterle multare io penso che invece sarebbe molto molto importante mettere in città perché quello veramente lo strumento più importante tantissime telecamere intelligenti che possono controllare i vari punti della città che abbiano quindi poi un centro collocato all'interno non so della polizia locale o della questura dove poter in qualche modo controllare tramite i monitor quello che avviene in città in modo che queste telecamere intelligenti possono dare degli alert immediati perché lì siamo stati fortunati che c'erano dei cittadini che hanno sentito urlare questa donna hanno chiamato subito i cremieri che per fortuna erano lì vicino e sono intervenuti tempestivamente noi se avessimo avuto lì in Piazzale Matteotti una telecamera intelligente con un lallert perché c'è un qualcosa di preciso che si muove una situazione particolare non avremmo se non ci fosse stato nessuno in quella piazza comunque avremmo lo stesso avuto un segnale quindi ormai io credo che la tecnologia visto la carenza degli uomini sia fondamentale sia importante e in città ne mancano tantissime e quello e quelle che ci sono tante volte sono telecamere completamente inadeguate ed ora cambiamo argomento perché dopo dieci giorni senza esito si sono interrotte le ricerche del 19enne di Aqualagna Riccardo Branchini nell'area della diga del Furlo dove è stata poi ritrovata la sua auto e alcuni effetti personali si continua però a seguire anche la pista dell'allontanamento volontario con tante segnalazioni d'avvistamento che vengono monitorate dall'avvocato Elena Fabri che abbiamo ascoltato in merito Dopo dieci giorni di perlustrazione via terra dall'alto con droni e nelle acque della diga con i sommozzatori si sono interrotte le ricerche al Furlo di Riccardo Branchini 19enne di Aqualagna scomparso dal 13 ottobre con l'unica importante traccia lasciata di quella sua macchina abbandonata ai margini della diga con tanto di indumenti personali e telefonino all'interno. Interrompere le ricerche non significa archiviare l'ipotesi di un insano gesto del ragazzo ma intanto si lavora sulla pista alternativa dell'allontanamento volontario con l'avvocato pesarese Elena Fabri incaricata dalla famiglia Branchini di seguire la questione monitorando la percorribilità delle segnalazioni stesse. È una vicenda molto complessa ovviamente inizialmente le ipotesi si sono concentrate proprio nei pressi dove è stata ritrovata l'auto perché sembrava l'ipotesi al momento più valutabile tuttavia nonostante siano passati ormai quasi dieci giorni non vi è stato alcun riscontro anche se mi auguro appunto che le ricerche diciamo sulla diga non siano completamente terminate anche perché purtroppo non essendo stata completamente prosciugata la diga potrebbero essere fatte ulteriori ricerche proprio in quel posto. Ovviamente è aperta a 360 gradi la ricerca comunque di Riccardo e pertanto ci siamo rivolti oltre che alle autorità giudiziarie anche alla trasmissione chi l'ha visto proprio per massimizzare la divulgazione dell'immagine di Riccardo e in effetti io stessa che sto gestendo le segnalazioni abbiamo ricevuto già numerose segnalazioni anche in provincia e fuori provincia quindi stiamo valutando questa seconda ipotesi dell'allontanamento volontario e cercando di comprendere se qualcuno possa aver aiutato Riccardo insomma in questo suo allontanamento e se qualcuno ci possa segnalare di aver visto Riccardo cosa che sta accadendo. In particolare vorrei sollecitare chi dovesse incontrare Riccardo o comunque una persona che gli somiglia a darci più dettagli possibile e se riesce anche a scattare una foto in modo da poter valutare direttamente se è Riccardo la persona che stiamo vedendo in quel momento. Naturalmente la pista dell'allontanamento volontario rimane la forte speranza dei genitori di Riccardo. Sicuramente sperano in un allontanamento volontario per evitare anche di pensare ad ipotesi diciamo a gesti estremi e veramente credano che questa ipotesi sia coltivabile in virtù del fatto che comunque stava esprimendo in questo ultimo periodo di tempo un periodo di isolamento anche rispetto agli altri ragazzi e quindi un momento magari di tristezza e mentre era tornato da due viaggi un interrail e un altro viaggio all'estero quindi ipotizzano che possa in un qualche modo essersi allontanato magari rispetto a quella che poteva essere un po' la realtà piccola della propria città. Il Comune di Pesaro ha approvato oggi in giunta un prelievo straordinario di 200 mila euro dal suo fondo di riserva per gli interventi d'emergenza. Soldi che saranno destinati al centro direzionale Benelli e alla statale 16 in cui è franata parte dell'ardizio lo scorso 19 settembre. Lo annunciano il sindaco Biancani e l'assessore Pozzi a fronte di criticità gravi che porteranno ad un intervento di 130 mila euro sul centro Benelli il cui piazzale è da settimane transennato di fronte ai cedimenti della trave portante lesionata dalle infiltrazioni d'acqua. Sarà realizzato un ponteggio per consentire un appoggio sicuro della stessa trave. 100 mila euro sono invece destinate alla messa in sicurezza delle frane che insistono sul cavalcavia in uscita da Pesaro in direzione Fano. Ponte che oggi è stato riaperto in entrambe le direzioni con senso unico alternato regolato da semaforo. Il Comune comunica di aver prelevato anche 20 mila euro per la sistemazione di strada dell'angelo custode franata un mese fa. E torniamo a parlare dell'inchiesta della Procura di Pesaro sul caso degli affidamenti diretti del Comune che potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta con l'acquisizione dei documenti del PC di Massimiliano Santini, uno dei tre indagati dell'inchiesta. Un tema analizzato dall'avvocato Pia Perricci, protagonista dalla prima ora per quanto riguarda la richiesta di accessi agli atti sulla questione. Ascoltiamola. L'indagine sugli affidamenti diretti delle Comune di Pesaro alle associazioni culturali Opera Maestra Stella Polare ha portato gli inquirenti a recuperare i contenuti delle PC in dotazione a Massimiliano Santini, ex responsabile 20 del Comune, nonché uno dei tre indagati nell'inchiesta della Procura. PC che in sede di perquisizione Santini aveva denunciato come smarrito. Un recupero di contenuti sollecitato più volte dall'avvocato Pia Perricci, candidata a sindaco nelle ultime elezioni con la lista civica Vieni Oltre, è coinvolta sin dalla prima ora in una corposa serie di esposti alla ricerca della verità sulla questione. La scatola nera ritrovata non mi meraviglia. Io ho fatto un accesso agli atti già da tempo, l'ho sollecitato ieri perché il Comune non mi ha risposto, in quanto io ho chiesto chi è la dirigente che si occupa, parlo di la dirigente perché mi è stato già segnalato verbalmente il nome, che si occupa dell'accessione di questi strumenti del Comune perché non viene dato soltanto un PC ma viene dato anche a tutti i dipendenti pubblici anche degli smartphone e dei tablet, al punto tale che verso fine mandato noi abbiamo ritrovato diverse persone che conosciamo, che facevano parte della giunta comunale che stavano andando a restituire. Allora la domanda che io ho posto sin dall'inizio è il Comune in tutto ciò dov'era? Come mai il Comune non ha chiesto la restituzione di questi beni che sono acquistati comunque con i soldi dei cittadini? Per cui questi beni essendo dati dal Comune necessariamente sono collegati a un CED. Per cui io non voglio credere che sia stata fatta una denuncia ad hoc di smarrimento, però sicuramente dall'analisi di questa scatola nera si vedrà quando è stato acceso per l'ultima volta questo PC e dove. L'avvocato Perricci che da un mese ha strutturato la sua ricerca di trasparenza attraverso la nonata associazione Volviamo confida sul fatto che la magistratura saprà far luce sulla vicenda. Ho assolutamente e assoluta fiducia nella giustizia. So che la magistratura con quelli che sono i suoi tempi perché purtroppo ci sono delle burocrazie perché perseverando e soprattutto non avendo la paura di parlare si arriva sempre alla fine e alla verità. Dico non aver paura di parlare perché è strano ed emblematico come io venga additata dalla sinistra e viene fatto un esposto da parte del sindaco e questo mi ha colpito parecchio perché ha utilizzato la carta intestata del comune protocollandolo dal comune un esposto nei confronti della mia persona dicendo che avrei leso l'onore forense. Il resto della cittadinanza pensa l'inverso. Anch'io penso l'inverso perché non sono mai andata oltre e non ho mai offeso personalmente. Ho detto quelli che erano i miei dubbi e dalla destra c'è qualche componente della destra che si sta divertendo a denunciarmi per diffamazione a mezzo stampa. Mi domando è strano questo comportamento anche perché se il nostro fine il nostro obiettivo era unico cioè quello di avere la trasparenza io credo che la destra magari mi doveva utilizzare come colei che ha portato avanti le iniziative giudiziarie prendendosi addosso anche tutte le varie responsabilità e sfruttare questa situazione per fare più chiarezza. Invece viene fatta guerra da entrambi i lati. Da ieri è di nuovo in tilt la possibilità di prenotazione di visite sanitarie tramite il CUP. La Regione Marche ha comunicato oggi come si stiano verificando problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza delle ricette mediche gestito dal Ministero dell'Economia attraverso la società informatica Sogei. Mancati funzionamenti che rendono impossibile emettere la ricetta da parte di medici e pediatri e la relativa prenotazione di prestazioni di qualsiasi centro abilitato. La Regione comunica che sta attivando tutti i canali possibili per sollecitare la ripresa dei servizi. Domani alle ore 18 presso il cinema Astra di Pesaro sarà presentato alla città nascita di una capitale il docufilm ideato e diretto dall'attore pesarese Fabio Galli. Alla serata oltre al regista e al produttore parteciperà il cast tecnico e artistico del film, un docufilm di 56 minuti che racconta a Pesaro la provincia e il suo territorio attraverso un racconto originale fatto di immagini, testimonianze e documenti fino alla genesi del riconoscimento di Pesaro capitale della cultura. Ed ora parliamo di eventi del nostro territorio perché sarà invece a Qualagna il prossimo comune capitale per una settimana che fa parte del progetto 50 per 50 capitali al quadrato di Pesaro capitale della cultura 2024. Una settimana quanto mai strategica visto che unirà il primo e il secondo weekend della 59esima fiera del tartufo bianco pregiato. A Qualagna sceglie una settimana quanto mai strategica per la sua investitura capitale della cultura per una settimana. Quella che va dal 28 ottobre al 3 novembre, quella che unisce il primo con il secondo weekend della 59esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato in cui il prezioso tubero diventa di fatto il detonatore alla più ampia scoperta delle specificità storiche, archeologiche e paesaggistiche custodite dalla stessa Qualagna. Avere scelto di tenere la settimana di capitale italiana della cultura con Pesaro, così abbracciando la fiera del tartufo, che è uno dei più importanti d'Italia, oltre che naturalmente il nostro territorio, che lo dia un forte valore aggiunto, una spinta e una massa critica importante per vivere al meglio questa settimana che partirà dalla tradizione, dalla storia, dall'archeologia per arrivare all'intelligenza artificiale passando per la musica, naturalmente la gastronomia, quella popolare, quella di coinvolgimento di grandi chef, così come fondamentale come ogni settimana da capitale italiana della cultura, il coinvolgimento delle scuole, dei suoi scolastici, in questo caso l'Istituto Comprensivo Mattei, che appunto porta avanti un'attività importante di coinvolgimento dei giovani. Il fatto che noi abbiamo abbinato la settimana della cultura, che coincide con la siera nazionale del tartufo, è sicuramente un connubio vincente, perché è la sublimazione del rapporto tra cultura, ambiente, territorio e tipicità e no gastronomia. Tutto questo patrimonio che nessuno ci può togliere, perché è il patrimonio che fa parte della tradizione, della storia, della memoria storica, è quello che noi vogliamo però traslare verso il futuro con anche l'innovazione, cioè memoria sì, ma anche innovazione. Quindi noi diventeremo anche una fiera internazionale, perché il tartufo deve diventare il volano di una crescita di un'economia non solo locale, non solo provinciale, non solo regionale, ma dell'intero paese e vogliamo affacciarci anche sull'ambiente europeo, allacciando i rapporti anche con le altre regioni d'Europa. Un esempio è con la vicina Austria, con la quale già abbiamo un rapporto, che è iniziato un rapporto, tant'è che faremo un collegamento durante la fiera fra il comune di Vienna e il comune di Acqualagna in diretta dalle piazze per proprio sigillare questo nuovo rapporto che noi guardiamo avanti, quindi guardiamo anche all'Europa. Una settimana che rimbalzerà dalla fiera alla gola del furlo, dalla casa natale di Enrico Mattei al museo archeologico per poi chiudersi il 3 novembre nella frazione di Pole con il progetto Archeo Explorer a cura della rete museale della via Flaminia che porterà a scoprire l'antica città di Pitinum Mergens. Questo è un progetto per cui siamo arrivati all'ottava tappa con Acqualagna ed è un progetto finanziato dall'Università di Urbino e che anche fa parte della coprogettazione con la rete museale della via Flaminia. In questo caso sarà direttamente il professor Oscar May che presenterà sul campo i risultati della ricerca che porta avanti da anni sul sito dell'antica Pitinum Mergens, la città sepolta, città nascosta che si trova non sotto il paese attuale ma in località Le Pole e andremo a toccare con mano i risultati da un punto di vista di vista geologico, delle prospezioni geofisiche che sono state fatte e degli studi. Quindi veramente un incontro interessante e di alto calibro scientifico. Continuiamo a parlare di eventi ma da Acqualagna ci spostiamo a Mondavio in cui da alcuni anni la festività di Ogni Santi coincide con una rievocazione storica molto particolare, quella del Capodanno Celtico. Mondavio si conferma terreno fertile alle rievocazioni storiche riportando nel suo scenario medievale usi costumi e ambientazioni delle popolazioni celtiche che si stanziarono tra Romagna e Marche attorno al 380 a.C. Samhain Celtic Festival è la celebrazione di Mondavio del Capodanno Celtico, un evento recente per il Comune arrivato alla sua terza edizione e presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord per riproporre fra il 1 e il 3 novembre un suggestivo viaggio fra musica, danze e giochi celtici, oltre a laboratori e al gusto delle taverne a tema. Siamo arrivati alla terza edizione e su questo voglio davvero ringraziare l'Associazione Proloco per aver portato in un momento, diciamo, in un periodo dell'anno diciamo un pochino più calmo anche da un punto di vista della stagione diciamo turistica, riempendo un periodo appunto dell'anno diciamo con meno eventi. Saranno tre giorni, la festa partirà dal venerdì sera e terminerà con la domenica pomeriggio, quindi quest'anno questa edizione si allunga anche nella stagione prendendo il ponte delle festività dei Santi. È una manifestazione a 360 gradi che coinvolge un pubblico ampio da giovani alle famiglie perché comunque ci sarà uno spazio kids dedicato quindi ai bambini e si susseguiranno nel corso della giornata negli spazi concerto diversi gruppi e poi ovviamente ci saranno le taverne per la consumazione dei pasti. Anche il Festival Celtico di quest'anno mette insieme tante iniziative, tante attività che riguardano un po' tutte le fasce d'età. Intanto vengono alzite appunto delle taverne a cura della Proloco, poi c'è musica celtica in tutti i tre giorni della manifestazione con tanti gruppi che si esibiranno con queste musiche tradizionali. Poi ci sono i giochi tradizionali della cultura celtica a cui tutti possono partecipare, quindi dal tiro alla fune al lancio dei massi, insomma tante prove di forza, c'è la parte riservata ai bambini nella parte riservata agli adulti. Insomma tante iniziative che hanno comportato, ripeto, nelle precedenti due edizioni un grande successo, quindi la riproposizione del Comune con la nuova Proloco è infatti estremamente positiva. Vi segnaliamo che domani all'hotel Charlie di Pesaro, a partire dalle 16, si terrà il convegno professionisti in evoluzione, uno sguardo strategico sul futuro, organizzato da Bacciardi & Partners in collaborazione con ASLA e LCA. Il convegno si rivolge a professionisti quali avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ingegneri, architetti e consulenti aziendali. Nell'occasione saranno affrontate le complessità della professione di fronte alle sfide del mercato globale e delle nuove tecnologie. E concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport, ricordandovi che domani sarà un venerdì di partite a Pesaro, a cominciare dal primo impegno casalingo per quanto riguarda l'Ital Service Calcio a 5, che sarà al Palamega Box, infatti dopo la sconfitta con onore di Roma, alle 20.30 domani Pesaro proverà subito a rifarsi con la L84 Torino. Alla stessa ora si giocherà anche Vis Pesaro Carpi, decima giornata del campionato di Serie C. Dopo quattro pareggi consecutivi, i biancorossi di Mister Stellone proveranno a restituire la gioia della vittoria al pubblico del Benelli. Eccoci arrivati alla fine di questa edizione di oggi, giovedì 24 ottobre, ma attenzione perché potrete rivedere questo giornale e comunque gli spazi dedicati a Rossini News questa sera alle 20.30, alle 23.30, domani mattina alle 6.30 e anche alle 13.30, l'ora di pranzo quindi di domani. Ma restate con noi perché su Rossini TV ci sono tantissime cose a partire dal giovedì con il nostro insieme a Canestro. Saremo in diretta alle ore 21 per dibattere su come sta andando questa squadra, le prossime partite, un'analisi che verrà fatta da Matteo Maggi, general manager e Lorenzo Scatigna, opinionista e scout. E poi domani Daniele Sacchi vi aspetta al consueto appuntamento con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa locale. E vi ricordiamo che domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 21, potrete vedere un bel dibattito e approfondimento che Rossini TV ha voluto organizzare per parlare di bullismo e cyberbullismo, un problema da risolvere soprattutto dopo quanto è accaduto a Senigallia. E poi domenica tutti seduti sul divano a guardare la partita in trasferta della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che si incontrerà con Urania Milano, quindi 21.30 domenica sul canale 80. Ho detto davvero tutto, carissimi amici, buona serata e ci rivediamo su Rossini TV con il nostro telegiornale domani sera alle 19.30.